Terminato il restauro conservativo, inizia il trattamento delle lacune e, vale a dire, il trattamento estetico del dipinto. Questo intervento permette di ricostruire il tessuto figurativo dell'opera e quindi consentire una lettura corretta e omogenea del dipinto e deve sempre essere distinguibile dall'originale sia per tecnica che per materiali impiegati che dovranno essere sempre reversibili per evitare falsificazioni. Innanzitutto si procede con la stuccatura delle lacune con gesso di bologna e colla di coniglio. Lo applichiamo con piccole spatole di metallo. Una volta asciugato lo portiamo a livello del tessuto pittorico, grattandolo con una lama di un bisturi o con la carta vetro e ricreiamo un supporto omogeneo su cui poi verrà steso il ritocco vero e proprio. Spesso noi facciamo la sagomatura della superficie per imitare le pennellate e le imperfezioni della superficie originale di modo che il ritocco sia almeno visibile possibile. Quindi il dipinto si vernicia con una vernice protettiva anti raggio UV e comincia la reintegrazione pittorica che è appunto qui un intervento che ricrea un collegamento cromatico dove sono presenti lacune o abrasioni della pellicola pittorica in modo da restituire l'opera alla pubblica fruizione nella sua completezza. Su zone del dipinto a brase ma ancora leggibili si ringrana con piccolissimi ritocchi per restituire un tessuto pittorico più compatto e omogeneo. L'intervento è attuato con varie tecniche e come abbiamo detto con materiali reversibili in modo che a una certa distanza risulti impercettibile ma si evidenzi chiaramente a una visione ravvicinata e questo per proprio per permettere la riconoscibilità dell'intervento. Noi utilizziamo la tecnica dello spuntinato con colori a vernice per restauro quindi noi eseguiamo tanti puntini ravvicinati fino a ricreare il tessuto mancante. Queste immagini mostrano un confronto tra il prima e dopo l'intervento di restauro. In particolare si può vedere il fondo dietro il bambino dovuta all'eliminazione delle vecchie ridipinture e stucature che avevano coperto la pellicola pittorica originale. In queste foto si può apprezzare la preziosità del segno pittorico del panneggio e la raffinata cromia. Si possono ammirare dettagli di squisita fattura quali il gioiello, la canna palustre e i calzari. Il restauro ha consentito di rendere visibile l'area perimetrale precedentemente coperta dalla cornice. Qui nell'immagine viene evidenziata in rosso, che celava anche alcune parti figurative. Viene così restituita alla pubblica fruizione un'opera significativa del pittore genovese, capace di esprimersi con una stesura pittorica e una tavolozza cromatica notevoli. Grazie!